quindicesima edizione dello sportone league quarti di finale della champions la forza peruviana incontra i bastardi senza gloria ma prova in porta toscanesi in due tempi mendoza poi con le mani ritmo della partita già cresce è già battuta severino affrontato da due deve ricominciare da nando e prova a entrare shaponian in aria destro spinelli primo squillo del peru gioca per augusto viedo palo gol oviedo piega la mano di spinelli in buca d'angolo e allora nando provala ad avanzare severino col desto fuori cortese tranquino per meola destro masticato fuori palla dentro si addormenta la difesa dei bastardi spinelli noi attento rispinge toscanesi mette piede sul pallone va dal fratello centrale che va da geni meola che va ancora da pignetti dentro per tranquino fuori di nulla c'è la deviazione decisiva di victor mendoza di lama arriva shaponian col desto fuori oliver evita il traffico poi subisce un calcio palla dentro di augusto che viene recuperata da nando severino spinelli la palla recuperata dai bastardi con tracchino che non riesce a farla passare ancora tracchino in mezzo a due prova una magia riesce tracchino in bucata pignetti nell'aria cortese alta esce valo tocca il pallone severino apertissima la formazione dei bastardi severino tocco d'esterno per luis debas tocco dietro valo chiuso de pass mancino cortese taglia il campo si accentra prova mendoza dietro il pallone a medeo prova a entrare in area di rigore padumbo si chiudono le maglie non c'è contatto palla dentro meola nell'aria arriva pignetti esce dal traffico il perù gioca oliver sportellata di pignetti punizione palla dentro battuta che rimane lì joe vargas col destro fa 2 a 0 joe vargas entra in segna cortese finta il tiro perde la sfera si lascia cadere parte oliver tocca per emerson sinistro spinelli palla dentro corpo di testa secondo palo e c'è il 3 a 0 con il gol di luis debas l'hostatico difficil 가지 attra' ics appart 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 appart